Anticipazioni, uomini e donne. La conduttrice e la redazione potrebbero scegliere un'ex corteggiatrice come nuova tronista. Maria De Filippi e la redazione del programma, Uomini e donne, stanno intervistando diversi giovani ragazzi e ragazzi in vista della nuova stagione della trasmissione. Il dating show di Canale 5, infatti, termina la sua consueta programmazione a fine maggio per poi riprendere a settembre prossimo. Con l'inizio della nuova edizione, la redazione e la conduttrice presentano al pubblico, agli opinionisti e al parterre maschile e femminile, i nuovi tronisti. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Maria De Filippi voglia puntare su una vecchia conoscenza del programma per, risollevare, il, trono classico. Ma di chi si tratta? Uomini e donne, è un programma che esiste dal 1996, ma inizialmente si trattava di un talk show. Solamente con l'inizio della stagione del 2001, il format viene modificato, facendolo diventare la trasmissione che conosciamo ancora oggi. Uomini e donne, si propone di dare la possibilità a persone, giovani e meno giovani, di mettersi in gioco per trovare l'amore. Dal 2010, il programma è diviso, per l'appunto, nella sezione classica, con tronisti e corteggiatrici, e una, over, dedicata a uomini e donne con un'età superiore ai 30 anni. A partire dallo scorso settembre, la redazione ha scelto tre tronisti, Christian Forti, Brando Efrician e Ida Platano, storico personaggio del, trono over. Dopo la scelta dei due giovani tronisti, Ida è rimasta da sola per qualche tempo, venendo successivamente affiancata da un altro tronista, Daniele Pau dice. La scelta di Ida sembra essere molto lontana, poiché il suo sentimento è diviso tra due corteggiatori, Mario e Pierpaolo. E, inoltre, la tronista non sente ancora un grande sentimento nei confronti dei corteggiatori e viceversa. Uomini e donne, ex corteggiatrice di Daniele torna come tronista Secondo quanto riportato dal noto esperto di, Uomini e donne, e Gossip, Lorenzo Pugnaloni, la redazione e Maria De Filippi vorrebbero puntare su un'ex corteggiatrice per il nuovo, trono classico. La corteggiatrice ha partecipato al programma da poco, ma ovviamente non è stata la scelta del tronista. Molti hanno pensato alla corteggiatrice non scelta da parte di Brando, ovvero Beatriz Dorsi. Ma, a quanto parte, non si tratta di lei, ma di una partecipante uscita veramente da pochissimo. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che Maria De Filippi potrebbe accettare un'autocandidatura proprio di un'ex corteggiatrice di, Uomini e Donne. Ma di chi tratta nello specifico? Lo stesso Pugnaloni rivela di aver intervistato Valeri Coda. La giovane è stata recentemente la corteggiatrice di Daniele Paudice, ma è stata eliminata dallo stesso tronista. Valeri Coda ha ammesso che sarebbe ben disposta a ritornare nel programma. Ora tutto dipende da Maria De Filippi e dalla redazione selezionare o meno Valeri. Valeri Coda ha ammesso che sarebbe ben disposta a ritornare nel programma.